Come riscattare così il Game Pass per PC attraverso Nvidia App? Quindi in questo caso puoi direttamente scaricare il programma Nvidia App per quelli che hanno una scheda grafica Nvidia e per le schede grafiche supportate dalla serie 10 in su io avendo una 1660 Super supporto così questo premio che mi hanno dato quindi come puoi vedere posso riscattare così il premio GeForce Rewards quindi PC Game Pass quindi vai direttamente a scaricare l'applicazione Nvidia App scarichi, installi, accedi con un account qualsiasi io ho fatto l'accesso con l'account Google quindi fai l'accesso con l'account Google eccolo qua vai direttamente su riscatta ed ecco qua PC Game Pass vai a cliccare qua sopra su riscatta se ti dice di fare l'account fai l'account e accedi una volta fatto ti porterà così su questa pagina qua ed eccolo qua PC Game Pass non mi resta che attivarlo come puoi vedere solo per i nuovi abbonati a Xbox Game Pass i codici promozionali sono validi fino al giorno del 5 di settembre o fino all'usaurimento scorte disponibile per chi gioca su GeForce, CTX serie 10 e versioni superiori quindi faccio l'attiva una volta scattato così il codice vai direttamente su completa attivazione seguendo questo link fai l'accesso al tuo account Xbox Game Pass fai l'accesso e qua c'è scritto accedi e riscatta quindi ci clicchiamo sopra ci porta così sull'account Microsoft e qua va messo il codice che ci ha dato Nvidia per un mese e diamo il benvenuto in Game Pass quindi ho riscattato così un mese gratuito di Xbox Game Pass quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lasciate un like per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao